Nei primi giorni di settembre cerchiamo sempre di trovare modalità piacevoli, accattivanti, coinvolgenti per accogliere i nostri studenti. Spunti, nuove idee, suggerimenti operativi, spesso pensiamo ci vorrebbe un'idea. In questi due incontri, prendendo spunto dai modelli di Freiberg e di Kolb, potremo confrontarci nelle esperienze, le mie e le vostre. Personalmente mi piace parlare solo di quello che ho sperimentato e che tra quello che ho sperimentato, quello che ha avuto successo, che ha funzionato, tenendo presente l'obiettivo ma in pratica come si fa.